musica 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 guarda, ho un po' di soldi non voglio discutere ok? scusa capisci anche a me per favore? dai così vestito no? ok scusami ciao dai musica 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 perché il modo in cui mi avete trattato 15 minuti fa non l'ho gradito molto mi ha fatto diventare inappetente se mi può spiegare forse... ero io il ragazzo prima che ero vestito con quella giacca azzurra ti ricordi che mi avete preso e mi avete mandato altrove? no non volevate che io mangiasse all'interno del vostro ristorante è così che funzionano le cose in Italia sono io, guarda sono io col cappellino ovviamente io ho capito ma ora è troppo tardi corretto, non bisogna giudicare una persona in base a come si pone a come è vestito corretto? mai giudicare un libro dalla copertina beh, ora non ho mica più appetito ciao, bello eh, come se avesse accettato come se avesse accettato ma non ho proprio più appetito ciao, bello ciao